140 opere tra oli, aquarelli, disegni ed incisioni provenienti da collezioni private, esposte quasi tutte per la prima volta al pubblico. Fino al 14 febbraio, con ingresso gratuito, al complesso del Vittoriano si potrà visitare Campagna Romana, un'importante mostra che svela squarce di immagini di una Roma che non c'è più. Un suggestivo viaggio nel tempo e nella memoria che prende il via dai Bamboccianti, scuola pittorica del 600 che è come punto di riferimento il maestro Pieter van Laer, detto appunto il Bamboccio. Il percorso si snoda poi attraverso le rappresentazioni degli artisti che hanno visitato la capitale in occasione del Grand Tour, fino ad arrivare ai primi del 900 e ai grandi pittori della scuola romana. Un'importante mostra per scoprire le bellezze del nostro territorio attraverso gli occhi di grandi artisti, dice l'assessore alla cultura Cecilia Delia. Anche un'occasione per comprendere come questo territorio sia stato amato dai grandi artisti, è un'occasione che noi offriamo appunto per scoprire le meraviglie della campagna romana, ancora oggi troppo poco conosciuto e soprattutto da chi vive a Roma.